Dottor Stefanato, dall'analisi dell'osservatorio contract logistic del Politecnico emerge una bassa centralizzazione e una bassa terzializzazione delle attività logistiche delle aziende ospedaliere in Italia. Come gruppo Sandonato, qual è la vostra esperienza in questo senso? La nostra esperienza nell'ospedale San Raffaele è stata quella del 2013 di cominciare a esternalizzare il magazzino device, quindi dispositivi, iniziando la nostra esperienza in collaborazione con Chiapparoli. Abbiamo oggi ormai avuto un'esperienza di due anni e sta proseguendo secondo i canoni quanto noi avevamo previsto, ovviamente con dei vantaggi notevoli sia dal punto di vista organizzativo che anche economici. Possiamo dire che oggi è molto dovuto ad aspetti culturali, dove ancora oggi l'interesse è quello di avere la sicurezza di controllare il materiale all'interno del proprio ospedale. L'ospedale per sua natura ha moltissime urgenze, quindi questa è una variabile che è difficile da gestire anche quando si è un magazzino all'interno della struttura, ma oggi noi possiamo dire che riusciamo attraverso consegne specifiche o comunque chiamate su urgenza a gestire anche il magazzino dei dispositivi avendolo esternalizzato. Quindi diciamo una delle remore è spesso proprio quella della paura delle urgenze o del non avere il materiale dentro casa. Noi l'abbiamo superata e diciamo che continuiamo su questa strada con, credo, reciproca soddisfazione, sicuramente a parte nostra.